Il candidato chiede di votare al ballottaggio per Pardini, ma i partiti che lo sostengono al contrario chiedono agli elettori di votare per Raspini. Si è consumato questa mattina nel giro di pochi minuti il clamoroso divorzio tra Alberto Veronesi ed il Terzo Polo. Veronesi al suo comitato elettorale ha dato indicazione ai suoi elettori di votare per il candidato del centrodestra. Do l'indicazione di voto per Mario Pardini, indicazione di voto per il cambiamento. Quasi contemporaneamente però Italia Viva e Azione, i partiti di Matteo Renzi e Carlo Calenda, oltre a più Europa, hanno detto l'esatto opposto, cioè hanno dato indicazione di voto per il candidato del centrosinistra. Raspini ha saputo dare rassicurazioni sulla progettualità e sulla discontinuità nei temi più sentiti dai cittadini lucchesi come infrastrutture, cultura, scuola e mobilità. Si legge in un comunicato del Terzo Polo, secondo il quale comunque mai i tre partiti potrebbero appoggiare una coalizione guidata da estrema destra, populisti e negazionisti. Per Veronesi però questo non è un problema. La guerra non è tra fascismo e antifascismo come una certa retorica di disinformazione vorrebbe far credere. La guerra è tra immobilismo e cambiamento e io voto per il cambiamento, come ho sempre detto in campagna elettorale. Cambiamento significa Mario Pardini.